Tito, Stimaneschi, a me mi ha rotti co***i eh Senti, a me mi piacciono, anche parecchio Però sento odore di sfida Sì, sì, parliamone Ti fa sto Marco vs Marco? C'è sta Faccio ancora un... T'aspetto sul ring Vai, ci vediamo lì Bene, il Capone mi ha sfidato Sì Maneskin ci piacciono o non ci piacciono? Maneskin sì o Maneskin no? Monetina Se c'è testa, difendo Maneskin Se c'è croce, attacco i Maneskin E te il contrario O contrario Oh, è andata bene È andata bene Sì Restiamo nelle parti Esatto Una volta tanto Una volta tanto ognuno difende la parte di cui ha convinto Mettiamola così Che l'ultima non mi andava tanto bene Mi ha toccato difendere Trump Eh sì, eh sì Ti è rimasto un po' qui nel giro Sì, non qui proprio Per carità Musica leggera Capisco che tra i vecchioni Nel senso non vecchioni I Roberto vecchioni O i vecchietti I vecchietti, bravo Vecchietti, vecchioni Tipo l'Igabue E il Vasco Che fanno sempre le solite canzoni Che per carità Però insomma E tra trappisti Che hanno problemi col telefono Che non gli si ricarica E quindi non ti possono mandare un messaggio Capisco che I Maneskin Sembrano una boccata d'aria Però Liberi Che vi piacciono Posso essere libero E dire che mi fanno cacare il cazzo E questa è la prima Cioè capisco che nel palorama attuale Sembrano Cioè tipo No voglio dire Le zeppi Lo sto per dire No per cari No infatti Non ho esagerato Non ho esagerato Però una ventata d'aria fresca Mettiamola così Ti che mi dici Kito Che mi dici Vado io? Vai Vado io Allora senti Le critiche che hanno fatto A sti ragazzini Che comunque sono ragazzini Sono ragazzini Nati tra il 99 E gli anni 2000 E il 2000 98 92 Anni 90 Fine anni 90 Inizio A cavallo tra il millennio Sì Ok? Le critiche che hanno fatto E ah ma come Questi qui non sono rock E sono musichette E non possono chiamarsi Una band rock Perché le zeppeli E tutta un'altra cosa Perché i di purple Perché le solite cose Che i boomer Perché sono sempre loro Il problema Tirano fuori Quando c'è una band nuova Dicono Eh no però Le zeppeli Cosa? Vabbè Le zeppeli Certo Le zeppeli Stanno là Ma Mica sti ragazzini Mi hanno detto Noi siamo Il nuovo rock Che avanza La nuova band Del rock Di riferimento mondiale Questo non mi ha detto Di essere una band rock Che comunque Alcuni pezzi rock Ci sono Altri Io sono andato Ad ascoltarmi Come mi piacciono Quindi sono andato Ad ascoltarmi Anche tutte le vecchie canzoni Io l'ho conosciuto A Sanremo E attenzione Quando hanno fatto Il botto a X-Factor Non li ascoltavo Ok Perché non guardo X-Factor Quindi non li conoscevo Meno male Infatti X-Factor Però sono andato Avesse una discografia vecchia Ha un sacco di influenze Comunque da reggae Al Al rock C'è veramente Influenze sono tantissime E si sente anche Il modo di cantare Di Damiano E mi sono piaciuto Proprio per questo Perché comunque Loro sono partiti Da Qualche anno fa Che suonavano per strada A Roma Col cappellino Per le monete E la scritta Compratevi il cd Mi sembra una cosa del genere Hanno fatto La loro Tutte Hanno fatto Tutte la loro Gabbetta Tra Tra X-Factor Sanremo E l'Eurovision E quindi Tanto di cappello Ora L'altra critica è Eh però Sono andato X-Factor Eh però Sanremo Le band serie Non ci vanno Scusate Allora qui Ah io avevo Quando avevo Diciamo Da quando avevo 16 anni Ho sempre avuto Diverse band Con le quali Suonavamo Tutti Il sogno Ah no Proprio bene Suonavo È vero Sì sì Suonavo 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 Il nostro sogno Era quello di Fare successo Fare successo Comunque suonare Far piacere La nostra musica Più possibile Agli altri E lo scopo Di qualsiasi artista Che sia L'artista musicale Letterario Chiunque Non è fare Un'opera E tenerla nel cassetto E produrre qualcosa E farlo piacere A più gente possibile E loro Questo ho fatto Hanno detto Ok C'è l'opportunità Di partecipare All'X Factor Ma andiamo Una demo L'hanno presi E sono andata Alla grande Poi dopo Ha fatto successo Ha fatto il tour Europeo Italiano C'è San Andremo Che si fa Andiamo Perché Perché no A San Andremo Negli ultimi anni C'è andato chiunque Ci sono andati Marlene Kunz Gli After Hours Negra Maro Le vibrazioni E gli esterese Un sacco di band Belle Che personalmente stimo Ci sono andate Non c'è solamente Donatella Rettore Anzi Donatella Rettore Non c'è solamente Ivana Spagna Albano e Romina C'è anche Quest'altra Questa altra parte qui Quindi Oh Ma che ha fatto di male Hanno preso Hanno colto Al volo Tutte le occasioni Che ci sono parate Davanti E tutti lì A rompere i coglioni I bune I bune Sbagliano Perché Oh 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 Allora Su questo sto d'accordo Su questo sto d'accordo Bisogna ammettere Che effettivamente Il festival di Sanremo Chi l'ha vinto l'anno prima La canzone che l'ha vinto l'anno prima Te la ricordi? E fai rumore Diciamo che io ce l'ho un po' col festival Non con i maneschi Per carità Hanno fatto bene Quello che dici è più che giusto Io ce l'ho proprio col livello del festival di Sanremo O anche l'Eurovision Che secondo me è un po' Un po' bassino Nel senso Sì è musica che piace a tutti Per carità Una piccola parentesi Chiudi Chiudi L'Eurovision Manco lo conoscevo Io l'Eurovision Lo conoscevo Grazie ai maneschi Per dire Questo è vero Chiuso la parentesi Io lo conoscevo Questo film L'Eurovision Perché c'è un film Comico Su Netflix Dove c'è Ora lui l'attore Non mi ricordo Che prendono Appunto in giro L'Eurovision Che sono loro I due cantanti islandesi Che vincono In Israe Sono due Perché ora Anche gli islandesi A parte Bjork O York Come si pronunci E loro sono le due sfigate Tutti quelli altri Che muoiono tutti Quelli che sono arrivati Davanti a loro Gli islandesi Nel loro Sanremo Di Islana Muoiono tutti Quindi tocca a loro È un po' Una presa in giro Però Ecco Come festival Cioè Io Non lo so E poi Cantano dal vivo Ora non parlo proprio Dei maneschi Però All'Eurovision All'Eurovision Canta dal vivo Solo il cantante Solo il cantante La band In playback E sulle regole Solo il cantante Può cantare dal vivo Il livello Che per carità poi Ha andato proprio Di essere la regga Dal vivo Eh Vabbè Poi stessi d'accordo Poi stessi d'accordo Allora Vogliamo aprire la pagina droga Apriamo la pagina droga Prima della pagina droga Aggiungo A tutta la parte Di quelli Che stanno lì A dire I miei mani Schi Gni Gni Tutti Quelli che rompono In questo modo Sono anche tutte Quelle band Provinciali Che non ce l'hanno fatta E che in qualche modo Sono invidiosi Sono invidiose Soprattutto quelle band Che dicono di essere rock Ha detto Ma come Questi non sono rock Ce l'hanno fatta Noi siamo rock Quindi noi Dovevamo essere al loro posto Chiudo la parte Su questo ti do ragione Sì Quelli che dicono Noi siamo Poi alla fine Dopo Provateci anche voi Andate a demo X-Facto Andate a postale Andate a voice Andate a X-Facto Io lo dico Il livello è qua giù Però se siete bravi Allora Oh ragazzi E allora Provo su capitolo droga Allora Capitolo droga Innanzitutto Voglio dire Io sapevo che era Un Una kermess Un evento In cui Si Giudicava L'arte Non l'artista E la persona Nel senso Per quanto tu possa essere Indrogato Se sono i band Se fai la bella musica Qual è il problema? No nel senso No nel senso Tutto questo scandalo Che poi c'è Anche perché Da che mondo Da che mondo Da che mondo Sesso Droga E rock'n'roll E quindi io Tutto sto scandalo Tutto il bigottismo Che c'è Quindi il livello Proprio Eurovision Proprio Proprio Dai Diciamo Lo posso dire Ragazzi Lo posso dire Siamo d'accordo Poi I mani eschi Personalmente Non mi piacciono Forse lo ammetto Forse lo ascolto di poco Proverò a ascoltare Ti faccio sta promessa Ti piace Sean Paul Si Sean Paul C'è qualche canzone Che sembra che All'inizio Però Sean Paul Quella reggaeton No Ma all'inizio C'è qualche canzone Loro Che si sente Proprio sta vicinanza St'influenza St'influenza Di Sean Paul No Sean Paul Si si no Ma tu ti ripeto Ma Ma Si è convinto Prova a dargli un'altra chance A Maneschi Prova a dargli un'altra chance Però a Sanremo Non gliela do la chance E nemmeno all'Eurovision Ma per me Posso lo smettere Ai festival in sé No Anche se L'anno prossimo Molto ma molto Ma molto probabilmente Il direttore artistico Di Sanremo Che presentatore Sarà Alessandro Cattelano E perché Chi vince Ricordiamo Chi vince L'Eurovision Poi il paese Che vince Perché comunque I Maneschi Nanno rappresentata Dell'Italia Il paese che vince Poi ha il Come si dice Il dovere Il dovere Si Di organizzare Il prossimo In Italia Il prossimo Eurovision Quindi sarà in Italia Quindi ragazzi Non ci andate Vabbè Quindi Io per ora Si Sentiamo un po' Che hanno da dire Che hanno da dire loro Se dicono da loro Se sei un boomer Se sei un beccato Lo so che ci sei Anche tu boomer Qui Dì la tua Dicci Facci sapere Lo vogliamo sapere Questo Dicci la tua E poi E poi Prima di chiudere Di chiudere Vogliamo mettere Abbiamo fottuto la Francia Di nuovo Di nuovo Quello si Questo basta e avanza Per me Sì 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 Fai francesi Proprio ridicoli Proprio E quindi niente Ci diamo qui Chiudiamo qui E mettete like Condividete Commentate La nostra pagina www.strangerzine.it Se avete un argomento Sul quale dobbiamo Scannarci Fatelo presente Suggeritocelo E noi ci scanneremo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao